Per lo sciopero nazionale, se non ascoltati bloccheremo il Natale! Ancora a degrado davanti a Palazzo Chiericati, lo sfogo di un nostro telespettatore e gli amministratori non fanno nulla! Alta velocità per i 5 stelle, spreco di risorse, un'opera faraonica solo di propaganda elettorale! Tragedia nella notte, morto un 81enne mentre cercava di portare fuori dalla camera la termocoperta a fuoco! Autobus e parcheggi gratuiti per chi va a donare il sangue, firmate un accordo con Ulso 8 Berica! Ancora una sconfitta per il Vicenza, ieri in trasferta a Bolzano, l'autorete di Bianchi mette in ginocchio il bianco-rosso! Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Vicenza, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale con tante notizie! Iniziamo subito parlando della grande protesta degli autotrasportatori, in piazza, in strada, anche quelli vicentini che minacciano, se non verremo ascoltati, bloccheremo il Natale! Più di 500 i trasportatori vicentini che oggi hanno sfilato in corteo per il centro della città in linea con i colleghi di tutta Italia chiedono il rinnovo del contratto di lavoro che rispetti i diritti dei lavoratori, chiedono giustizia, dopo decenni il loro è un coro più che mai compatto! Ci troviamo a lottare veramente per ottenere dei diritti che sempre troppo spesso ci vengono tolti! Noi corrieri, paura di lavorare, non ne abbiamo? Noi lavoriamo, vogliamo essere retribuiti! Molti nostri colleghi non erano presenti oggi per intimidazioni aziendali, abbiamo subito minacce, abbiamo subito di tutto per non essere presenti, per non dar voce al nostro ramarico, noi vogliamo solo un contratto regolare! Lavorare per quello che siamo pagati, chiediamo uno strumento di controllo dell'orario di lavoro Non si può far pagare sulla pelle dei lavoratori la competizione tra le aziende, non si può far pagare sulla pelle dei lavoratori la crisi del governo Non è escluso che verranno indetti altri scioperi nazionali, questa è la notizia, i lavoratori si può dire tranquillamente che sono i nuovi schiavi in questo settore Noi proseguiremo con quella che è la nostra lotta di provincia, seppur piccola ma con tanta forza Abbiamo sentito nuovi scioperi annunciati se non ascoltati e sono pronti a tutto Cosa siete pronti a fare? Oggi, domani, sciopero nazionale e poi? E poi c'è Natale! Noi chiediamo di essere ascoltati, se no noi a Natale ci rifermeremo Cercheremo il modo che il Natale subisca le nostre conseguenze come noi le subiamo mensilmente Una minaccia che speriamo non si concretizzi perché in passato ci sono già state delle agitazioni simili da parte degli autotrasportatori che hanno causato notevoli disagi Parliamo di degrado in città, siamo tornati davanti al Palazzo Chiericati perché un nostro telespettatore ci ha richiamati Ha detto che l'amministrazione non sta facendo assolutamente nulla, sentiamolo Un museo così bello, dopo tutti questi soldi che sono stati investiti e spesi giustamente per l'arte Diamogli un colpo finale, cerchiamo di pulire Non capisco come mai l'amministrazione è bloccata, cosa c'è dietro? Perché non intervengono drasticamente? Ecco una parte, seppur minima, dei ricordi lasciati come ogni fine settimana davanti a quel gioiello che è Palazzo Chiericati nel cuore di Vicenza Ormai Lori Sazzolini che accanto al museo ci lavora è esasperato Ogni lunedì il risveglio con i souvenir, i rifiuti lasciati da gente che non ha il minimo senso civico Questi gruppi di ragazzi che rumoreggiano, sporcano e disturbano il normale svolgimento anche del lavoro di chi lavora per il museo per esempio Una situazione che abbiamo già proposto nei nostri telegiornali ma che pare non avere una soluzione E la rabbia di Azzolini ricade, oltre che sugli autori del degrado, anche su chi amministra la città Questa amministrazione si vanta di una Vicenza città d'arte, città turistica, però così non sembra Allora, rendiamola sì d'arte, come è giusto che sia, ma rendiamola anche pulita Deve essere pulita C'è rabbia da parte vostra? Ma c'è anche un po' di sconforto perché ripeto, siamo lì a raggiungere finalmente questo benedetto traguardo eccetera Cosa manca? Perché non si arriva a chiudere questa storia? Cattiva volontà secondo lei? Ma secondo me bisognerebbe, ripeto, che tirassero fuori un po' i cosiddetti attributi Insomma, il nostro telespettatore chiede più attenzione da parte di chi occupa Palazzo Tristino Per una concreta tutela della città e dei suoi cittadini Noi gireremo la questione a chi di dovere Adesso parliamo di alta velocità a Vicenza Partiranno i cantieri di qui a breve Qualcuno è già partito Il Movimento 5 Stelle però attacca e dice solamente una mossa politica Una marchetta, tra virgolette, elettorale Poi i cantieri bloccheranno la città Sentiamo Siamo per un no perché è un progetto faraonico Impegna risorse economiche notevoli che in questo momento non ci sono E non serve assolutamente a nulla Netta la posizione del Movimento 5 Stelle sul progetto dell'alta velocità Che dovrebbe passare per Vicenza Un'altra grande opera, spiega il consigliere comunale Che potrebbe essere annoverata tra i cosiddetti grandi affari Affari che però andrebbero a scapito della tutela e corretta conservazione dell'ambiente E di uno sviluppo sostenibile E tutto per guadagnare una manciata di minuti sulla tratta Venezia-Milano Al contrario, per il Movimento 5 Stelle sarebbe stato opportuno investire i soldi in altro modo Piuttosto di investire questi soldi nei collegamenti 90 Schio tiene una metropolitana di superficie Per arrivare a Padova più velocemente E per arrivare a Verona più velocemente Nel frattempo si parla di oltre 2000 giorni di cantieri Almeno una ventina di palazzi che verrebbero abbattuti Comprese anche opere viarie e i pentastellati attaccano L'attuale amministrazione è una parte di forze politiche Vuole tuttora l'alta velocità per poter fare le opere di compensazione Strade, filobus e tutte altre cose Insomma i tempi sembrano biblici Mentre le risorse al momento sono solo sulla carta Per i 5 Stelle un'operazione di facciata Le risorse economiche non ci sono Per cui il progetto difficilmente partirà a breve Quindi è stato solo uno spot elettorale Prossimo passo, la valutazione di impatto ambientale Allora avete sentito la posizione chiara del Movimento 5 Stelle Un attacco alla maggioranza In particolar modo al Partito Democratico Parliamo sempre di politica Con il nostro Tg Linea Aperta Lo vediamo in grafica Il referendum vince il sì Più competenze alla Regione Qual è per voi la più importante? Insistiamo su questo tema Perché ci avete scritto in tanti Evidentemente è una questione che vi sta a cuore Sapete partirà a breve la trattativa con Roma Per avere più competenze sul territorio E maggiore autonomia Parliamo di una bella iniziativa Ogni volta tanto ci sta Parcheggi e autobus gratuiti Per chi va a donare il sangue Da oggi donare il sangue a Vicenza Sarà ancora più facile Grazie all'accordo siglato tra aziende ospedaliera Comune di Vicenza Le aziende di trasporto pubblico SVT EIM e mobilità Noi cerchiamo di favorirli come possiamo In questo caso dando loro la possibilità Di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici Nel giorno della donazione E il parcheggio di interscambio di via Cricoli Con centrobus che porta proprio di fronte Al punto donazioni Oltre ad avere a disposizione Una decina di posti auto Nel parcheggio di San Francesco Ricavati nell'area sud Attualmente riservati ai dipendenti Dell'azienda Uslotto Berica Il donatore dovrà però esporre All'interno del parabrezza Copia del foglio di pronotazione Della donazione di sangue Pronotazione che diventa fondamentale Anche per il viaggio gratuito in autobus L'utente si deve stampare La prenotazione E con quella che tiene il luogo del biglietto Deve presentarsi a bordo del mezzo Esibirla all'autista L'autista gli darà prontamente un biglietto in cambio Biglietto che va poi obliterato In quanto titolo per la missione al trasporto pubblico Fatta la donazione Per il rientro sempre con il mezzo pubblico È necessario che il donatore si faccia Apporre un timbro sul biglietto Dall'ufficio dove ha donato il sangue E con quello potrà salire gratuitamente in autobus Se invece si posteggia l'auto In un parcheggio scambiatore Una volta effettuata la donazione Effettuata la donazione Il reparto darà in cambio di quel biglietto Ne darà un altro uguale Che però risulta un biglietto annullato Come se fosse stato pagato Con quel biglietto così timbrato Risalirà in autobus Arriverà al parcheggio Lo inserirà nelle apposite macchinette Slot e la sbarra si alzerà automaticamente Senza esborsi per il donatore La cronaca adesso Con un anziano morto Nel tentativo di spegnere Un incendio Il fumo che arrivava direttamente Dalla termocoperta di casa Tragede nelle notte In via Lago del Maltese a Vicenza Dove un 81enne morto Mentre cercava di portare fuori Dalla camera da letto La termocoperta Posizionata dalla parte del letto Della moglie di 78 anni Che aveva preso fuoco Il fumo acre e l'odore Hanno svegliato i coniugi L'anziano avrebbe tentato Di salvare la consorte Cercando di liberare il letto Portando via il materiale bruciato Ma si sarebbe accasciato a terra Una volta giunto all'altezza del bagno La moglie sebbene Lievemente intossicata Dalle esalazioni Ha subito dato l'allarme I sanitari del suo Emano tentato il tutto e per tutto Per rianimare l'81enne Per lui non c'è stato nulla da fare I pompieri hanno liberato la camera Dalla coperta Il materasso compromessi E messo in sicurezza il sito Con il prossimo servizio Andiamo a Isola Vicentina Si schianta con la propria auto Era ubriaco e drogato Ora è in coma Tragedia alle la notte Tra sabato e domenica A Isola Vicentina Un giovane 24enne di origine rumene Si è schiantato Contro un'abitazione Dopo una fuoriuscita autonoma I vigili del fuoco Intervenuti sul posto Hanno estratto il giovane In coma Dalle lamiere della sua minicupere Trasportato d'urgenza Alla rianimazione Dell'ospedale San Bortolo Non sarebbe però In pericolo di vita I primi esami Hanno poi evidenziato Esito positivo Del 24enne Nell'uso di alcol e droga Il giovane inoltre Al momento dell'impatto Non indossava la cintura di sicurezza Finendo così sbalzato Sul sedile del passeggero E riportando gravi traumi Una giornata ti può anche andare male Puoi avere una serie di sfighe Chiamiamole così Però Non per questo te la devi prendere Contro un'auto della polizia Perché poi Va a finire male La sfortuna lo perseguito E lui esce di testa Un 21enne peruviano Preso dalla rabbia e dall'ira Ha pensato bene Di entrare nel parcheggio Della questura di Vicenza E accanire tutta la sua frustrazione Su una volante Immediatamente intervenuti Gli agenti Ci hanno impiegato un po' Al calmarlo Una volta tranquillizzato Il giovane Ha spiegato Che la sua ragazza L'aveva lasciato Il padrone di casa L'aveva sfrattato E come non bastasse I carabinieri Gli avevano ritirato La patente Un insieme di sfortune Alle quali ora Purtroppo per lui Si aggiunge anche la denuncia Per resistenze E danneggiamenti Mancava il cane morto Diciamo che è stato Veramente sfortunato Non si può però Giustificare Per lui è arrivato La denuncia Era convinto Di aver fatto Un affarone E invece Mega pacco Per un trentenne Un pacco In piena regola Costato all'incauto Acquirente 200 euro Già lui Con quei soldi Pensava ad aver fatto L'affare dell'anno Comprando non uno Ma due smartphone E invece Dei sofisticati Apparecchi telefonici Un bel sacchetto Di sale Protagonista Un filippino di 30 anni Residente a Vicenza Che ieri è stato avvicinato Da un napoletano Sulla quarantina Che gli ha proposto L'accessione Dei due telefoni A 500 euro Perché gli servivano soldi Contrattato Fino ad abbassare la cifra A 200 euro Il quarantenne Ha intascato il denaro Ha consegnato il pacco Al filippino E si è dileguato Dentro Dicevamo Solo sale Al trentenne Gabbato Non è rimasto altro Che chiamare il 113 Ladri scatenati In questo caso Delle ladre Di origini Nomadi Che sono entrate All'interno di un appartamento Magro al bottino Pesanti I danni Pensavano di fare Il colpo grosso Soprattutto Non c'era nessuno Nei paraggi In realtà Le due nomadi Notate dai vicini Scappare Da quell'abitazione Al piano terra Di un condominio Di via Tasso In città Si sono dovute Accontentare Di un magro bottino Ma i danni Che hanno fatto Sono ben più seri Hanno forzato Una finestra in legno Una volta in casa Hanno rovistato dappertutto Mettendo ogni cosa A soccuadro Ad accorgersi del furto Ieri sera Ieri sera L'uso fruttuario Un 68enne Vicentino Che non ha potuto Far altro Che allertare Il 113 Incidente brutto Questo pomeriggio Lo vediamo Dal web Scontro frontale Tra due auto A malo Gravi tre donne Terribile schianto Tra due vetture Nel primo pomeriggio Tra una Clio E una Fiat 500 Una signora 79enne È ricoverata In prognosi riservate In rianimazione All'ospedale San Bortolo Di Vicenza Lo sport adesso Con il calcio Periodo nero Nerissimo Per il Vicenza Su Tirol Vicenza 1 a 0 Il colmo Autoretta Dei biancorossi Altro che periodo nero Per gli uomini Di mister Colombo Qui ci vuole un miracolo Per far ingranare Una squadra Che ancora non si sente Squadra Mica bene Se si considera Che il campionato È già a buon punto Un passo falso Quello di aria Bolzano Che pesa moltissimo Debole il gioco Degli undici in campo Davanti a un Sud Tirol Che pure dal canto suo Non ha dato il massimo E diciamola tutta Si è visto serviti I punti Su un piatto d'argento Senza fatica Ma questo non deve far Sviare l'attenzione Da quello che sta accadendo All'Ane Ora si punta Sui prossimi due match Casalinghi Il 5 contro la San Benedettese Lotto contro il Renate Siamo in conclusione Vi ricordo che questa sera In prima serata Torna l'attualità politica Di Iceberg Per quanto riguarda TG Vicenza È tutto Vi ringrazio Per la vostra cortesa attenzione Per essere stati In nostra compagnia E vi auguro Un buon proseguimento Di serata A presto Le previsioni per domani Tempo variabile Con alternanza di schiarite E annuvolamenti Possibili riduzioni Della visibilità In pianura In serata Temperature minime In generale calo Massime Pressoché stazionarie Clima più fresco Rispetto ai giorni precedenti Precipitazioni assenti Per la vostra corte Per la vostra corte Per la vostra corte